Ciro Immobile fa sorridere l'Italia grazie a una doppietta dell'attaccante della Lazio. Gli azzurri vincono in rimonta per 3-2 a Scopi e sulla Macedonia e restano agganciati alla Spagna a corsare in Albania in testa al gruppo G delle qualificazioni mondiali di Russia. Una gara sofferta però per i ragazzi di Ventura passati per primo in vantaggio con Belotti al 24esimo del primo tempo. Nella ripresa l'1-2 dei padroni di casa con il palermitano Nestorowski Asani fa vedere i fantasmi all'Italia. Nel finale però ci pensa un ispiratissimo Immobile in rete prima al 75esimo e poi in pieno recupero a regalarci la vittoria. Azzurri ora di nuovo in campo il 15 novembre in Ligtestein.